Buongiorno a tutti dal Medioevo, poi il body shaming con il linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo, mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime, evitate di ascoltare e di leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com'è, dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno, anzi con le calze sarrete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti e questo mi fa rendere conto che la mia canzone oltre ad essere bellissima a quanto pare era necessaria anche in questo Sanremo, sì perché è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e del rispetto delle donne, quindi mi raccomando ragazze non ascoltate questo genere di commenti e siete orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è, perché insomma volevo concludere, le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico e un peso importante, c'è chi le sa reggere e le vive con ironia e c'è chi purtroppo dietro a questo modo di fare, soprattutto sui social dove tutti parlano, giudicano, insultano, non si rendono conto che magari c'è qualcuno che legge ed è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine, però è veramente tutto molto imbarazzante questo lo devo dire. E niente ragazzi, io adesso torno a fare un sacco di cose belle, però era necessario per me dire questa cosa perché non si può più stare zitti davanti al fatto che chiunque possa parlare di un'altra persona in un modo così scorretto.